I miei primi 40 crati, questo è il titolo del nuovo volume pubblicato per conto di Dei Merangoli, editore. Che storia venne raccontata all'interno di questo volume? Si parla essenzialmente della storia di un commerciante di pietre, quindi episodi molto particolari che sono accaduti e accadono nella vita reale, in questo mondo in cui si va dalle miniere, quindi dal momento in cui una pietra viene estratta, fino al momento finale in cui la pietra arriva nelle gioiellerie e poi viene indossata nei gioielli di tantissime persone. Ovviamente sono un po' un racconto, da un punto di vista gemmologico, molto corretto, quindi vengono date informazioni corrette, diciamo, tra virgolette scientifiche, però in un romanzo in cui ogni pagina racconta un'avventura diversa in questo particolarissimo settore. Un episodio particolare, curioso, contenuto all'interno del volume, che magari è opportuno, come dire, svelare? Qualcosa che mi interessa molto è il vedere come in questo mondo ci sono fortissimi contrasti, cioè magari si passa dalla persona che prende la pietra dentro una miniera, magari vestito con pantaloncini corti e senza maglietta, una maglietta strappata, prende la pietra, fa un viaggio di 20 ore e dal Brasile si trova magari a Parigi e la stessa pietra viene mostrata in giacca e cravatta davanti a un gioielliere francese. Quindi si passa dalla storia proprio delle miniere fino a ristoranti sulla Torre Eiffel. E tutto questo è una piccola parte dei grandissimi contrasti che si vedono in questo mondo, perché ovviamente c'è la realtà dei minatori che vivono estraendo pietre, a volte il loro stipendio è soltanto il vitto e l'alloggio, a persone che invece acquistano pietre a cifre molto elevate, tra cui nel libro magari si parla anche di calciatori di Serie A o giocatori di basket NBA che prendono pietre che fino al giorno prima erano tenute in mano da dei semplici minatori. A chi è rivolto questo libro? Si rivolge ad un lettore in particolare oppure no? Credo che questo libro possa essere letto un po' da tutti ma anche da nessuno, non lo so, per quello che credo. È un libro che tocca dei punti specifici del mondo delle pietre, però è scritto in una maniera particolare, cioè io credo che tutti lo possano leggere e ci saranno le persone magari che lo possano amare proprio come romanzo, quindi come storia d'avventure, e magari invece persone che poi scoprono un mondo nuovo e magari poi si appassionano a questo mondo.